Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi risponderemo a una domanda che state facendo molti su Instagram che state chiedendo ossia perché non dimagrisco? Ho iniziato il cut, magari lì per lì qualcosa ho perso, però poi sono una strisazione di stallo e non riesco a capire il perché. Ora, queste domande sono arrivate soprattutto da ragazze, questo video è molto woman oriented diciamo così, però comunque sono degli spunti che possono essere utilizzati anche dai maschietti tranne quelli riguardo al ciclo che ovviamente a noi non interessano. Allora, io realmente non ho idea del perché il peso non scenda, ok? A parte il fatto che il peso non è l'unico fattore che dovete tenere in considerazione, però ci sono tante cose da analizzare, quindi ogni caso è un caso a sé però posso cercare di andare a vedere delle possibili cause, ok? E per ciascuna causa, magari dicimi disimate e per ciascuna causa cerchiamo di trovare una soluzione pratica da poter utilizzare, ok? Per far fronte al problema. Ma allora, prima causa è logicamente quella del ciclo. Ho già parlato del ciclo delle donne, delle variazioni degli ormoni ci sono determinate fasi, in particolare dall'oculazione alla fase lutinica, che prevedono comunque un aumento di peso, ok? Quindi il peso nelle donne tende a variare in base alla fase specifica, questo è dovuto sia alle fluttuazioni ormonali ma soprattutto alle variazioni di acqua, quindi della compartimentalizzazione dell'acqua, di un eventuale accumulo di ritenzione quindi logicamente in base alla fase in cui state non vi allarmate troppo, cercate di far passare comunque un mesetto per vedere il tempo del vostro ciclo, che è assolutamente anche questo individuale però cercate di non allarmarvi nel breve periodo e cercate di focalizzarvi più sul medio-lungo periodo proprio perché le donne tendono ad avere un peso che rispetto agli uomini fluttua di più nel breve periodo vedete e cercate di assistere piuttosto al trend che dovrebbe essere un trend positivo di diminuzione cioè o meglio un trend negativo di diminuzione la seconda causa, che è una delle più frequenti, ossia il fatto che l'adipocita si sta riempendo d'acqua che cosa succede? Che accade, e sono fenomeni che si stanno studiando ancora accade che l'adipocita nel momento in cui, quindi la cellula del tessuto adiposo nel momento in cui si svuota dei trigliceridi che stanno all'interno della goccia di trigliceride richiama acqua, ok? Come se non volesse svuotarsi lì per lì, ma in una fase d'allarme richiama acqua al suo interno quindi sostanzialmente si svuota di grasso e si riempie d'acqua quindi è una massa grassa, se vogliamo, fittizia questo è il motivo per cui in molti casi ci si vede che il peso più o meno stalla, non scende troppo però ci si vede un filo meglio, comunque un po' diverso, un filo più asciutte ora, qual è il discorso? Che questa ritenzione dà via a quello che viene definito il washing effect ossia dopo un cheat, magari dopo una ricarica, c'è una ricompertimentalizzazione dell'acqua quindi per via della botta di calorie in generale, ma anche di sodio, come spesso avviene nei cheat l'acqua viene quindi chiamata dal corpo in altri compartimenti e l'adipocita si svuota, ok? e questo è il motivo per cui spesso succede che dopo un cheat di colpo ci si veda molto molto meglio è una delle cause, ok? Delle possibili cause viene definito per l'appunto il washing effect sono comunque cose che si stanno ancora studiando, però ci sono delle evidenze in merito anche in questo caso la soluzione è semplice vedete, valutate il trend più o meno sul lungo periodo se potete permettervelo provate a inserire un piccolo refeed anche lipidico, un piccolo cheat e vedete come state il giorno dopo eccolo, quello potrebbe essere un indice che potete utilizzare altro problema è il troppo stress super super comune che succede che troppo stress vuol dire livelli di cortisolemia tendenzialmente elevati cortisolo si lega ai recettori di mineral corticoidi quindi sostanzialmente crea una ritenzione idrica questo è uno dei motivi per cui il peso non sta scendendo semplicemente vi state riempiendo d'acqua perché state stressate ora in questo caso il consiglio è abbastanza semplice cercate di capire da dove deriva lo stress se deriva dall'allenamento provate a scaricare un po' l'allenamento ma se deriva dall'alimentazione perché magari vi state stressando perché siete subito in cat iniziate a sentire troppa fame allora siete tendenzialmente stressate, un po' nervose allora in questo caso logicamente magari inserite un periodo in cui risalite un po' a livello alimentare state un po' più tranquille magari inserendo un po' più di cardio potrebbe essere una soluzione se invece lo stress deriva dall'attività lavorativa dal quotidiano cercate di tamponare come potete se deriva semplicemente dalla fase in cui siete nel ciclo aspettate anche in questo caso comunque anche il fatto di avere stress elevato può portare veramente veramente molto più di quanto credete lo stress può compromettere tantissimo i vostri risultati quindi keep calm, cercate di vedere tutto in un'ottica positiva molto zen, molto buddista un'altra causa che vediamo veramente veramente spesso nella nostra esperienza è quella di una situazione metabolica compromessa ho già parlato del reset metabolico questa è generalmente la soluzione se come si sente dire si parte da in un cat che si stanno mangiando magari 1600-1800 calorie a di fatto partite da una situazione metabolica compromessa se sia il vostro metabolismo già depresso continuate sostanzialmente a scendere ed è un punto di partenza che è assolutamente sbagliato quindi logicamente che cosa succede? che iniziate a scendere dal vostro punto di vista avete appena iniziato il cat però realmente il metabolismo sta in una situazione depressa probabilmente da tanto tempo quindi sostanzialmente va ancora più in allarme cerca di ritenere quanto più possibile e logicamente questo anche causa innanzitutto uno stallo perché appena va in allarme c'è logicamente un drop a livello di output calorico nel senso che il metabolismo inizia a diminuire il corpo va a sopprimere molte delle vostre funzioni o comunque a ridurle da un punto di vista prettamente metabolico di spesa energetica quindi logicamente anche in questo caso c'è una difficoltà a dimagrire e di nuovo c'è la solita ritenzione irica che viene causata quando il corpo va in generale in uno stato di allarme quindi se partite da una situazione metabolica compromessa invece di scendere guardate il video sul reset metabolico e pensate a salire e a costruire da un punto di vista metabolico altra problematica è quella di un deficit troppo elevato nel senso che magari siete scese subito di 500 o 800 calorie per vedere subito i risultati lì per lì avete subito perso però vi siete giocati tantissime carte, tantissimi step quindi logicamente il metabolismo subito è sceso nell'arco di poco tempo e vi ritrovate in una situazione metabolica più nuova o compromessa in poco tempo quindi state realmente in stallo quindi la soluzione sarebbe di continuare a scendere però se continuate a scendere con la stessa velocità e magari siete già a calorie molto basse logicamente la strada è molto molto breve quindi in questo caso il mio consiglio è quello di valutare tutta la vostra strategia di cat ora detto questo cerchiamo di fare qualche conclusione generale la prima conclusione è che generalmente le regole che valgono per il cat delle ragazze sono un poco diverse rispetto agli uomini ok quindi ci saranno sicuramente tanti video sul cat al maschile tantine ho fatti però eventualmente se vi interessa scrivetelo nei commenti farò un video anche sul cat di nuovo woman oriented quindi cercando di concentrarmi più che altro sugli aspetti femminili su quali sono le regole che una ragazza dovrebbe seguire in fase di cat di indimagrimento secondo punto non deprimete troppo il metabolismo valutate sempre il reset metabolico cercate sempre di partire da una situazione metabolica floreale, rosea, bella, viva, ok? felice mettiamola così quindi cercate sempre di partire da una situazione che vi permette di avere tanti margini di scesa in cui il metabolismo è vivo, è veloce, è felice e quindi logicamente il cat sarà molto più frutico e qua vi porto al terzo ed ultimo punto e qua concludo tutto quello che fate in fase di bulk, in fase di costruzione metabolica in fase di off-season in generale se siete agonisti si ripercuote sull'efficacia del vostro cat quindi non dovete vedere l'off-season soltanto mantenervi senza cercare di sbaccare in attesa del prossimo cat dovete vederlo come una fase proprio di costruzione metabolica è una fase attiva, è una fase in cui avete degli obiettivi da conquistare è una fase in cui dovete comunque dare tutte voi stesse cercare quindi di spremervi al massimo per conquistare questi obiettivi e gettare sostanzialmente i presupposti per rendere il cat successivo che verrà molto molto più efficace ok? quindi detto questo io vi saluto come al solito vi invito a fare tutte le domande che volete qua sotto in modo da instaurare il confronto fare anche tutte le vostre osservazioni nel caso e detto questo vi rimando al prossimo video iscriviti al canale grazie a tutti